Ciao a tutti, sono Marco Mestriner, sono il coordinatore nazionale di ANED Sport e sono anche il capitano della Nazionale Italiana di Pallavolo Trappiantati e Idealizzati di ANED. Sono contento di inviarvi questo video, raccontarvi un po' quello che facciamo con la Nazionale. Una squadra che è nata nel 97, quindi più di 30 anni di storia, è una squadra che è formata da pazienti trappiantati e idealizzati, che gira l'Italia, il mondo, per portare un messaggio per la donazione e il trappianto. Io per esempio ho fatto un trappianto di René nel 2011, attualmente sono un atleta sia della Nazionale Trappiantati, ma normalmente gioco a pallavolo come agonista nella mia città a Treviso e ho il piacere proprio di condividere con i miei compagni di squadra questa importante missione sportiva e sociale. Abbiamo portato a casa anche degli importanti risultati sportivi con la Nazionale perché abbiamo vinto due mondiali consecutivi nel 2019 e nel 2023 ad aprile scorso aperti in Australia e ci stiamo preparando proprio in questi ultimi mesi, prima del prossimo mondiale che sarà ad agosto 2025, per cercare di difendere e portare a casa un altro bellissimo risultato. Ringrazio tutti voi per questo speciale invito, per questo video e spero di potervi incontrare sui campi da gioco in giro per l'Italia. Grazie mille a tutti, ciao!